Negli anni 80 è stato giudice a latere nel maxiprocesso contro Cosa Nostra. Negli anni 90 è stato consulente della Commissione Antimafia. Dal 1999 al 2005 è stato capo della Procura della Repubblica di Palermo. In poche parole, è il nemico giurato della mafia, anzi di tutte le mafie. Sono 30 anni che la sua vita è una lunga, sofferta, spesso vincente, lotta contro la criminalità organizzata. E oggi forse lo è più che mai, perché da sei anni a lui è stata affidata la direzione della Procura Nazionale Antimafia, Pietro Grasso La vita, istruzioni per l'uso. Pietro Grasso intervistato da Alessandro Banfi. Lunedì 5 settembre alle 22 in Piazza del Popolo.